Questo programma è offerto da... Ben ritrovati amici di OnRaceTV in questa puntata davvero elettrica e tra poco scoprirete il perché. All'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia si sono appena accomodati due nostri super ospiti. I temi saranno come sempre veramente tanti, li affronterò insieme alla mia navigatrice Miriana Parlato. Ciao Miri! Ciao Ricky, buonasera a tutti quanti a casa. Allora sei carica in tutti i sensi per questa... Carichissima in tutti i sensi, esatto. Hai caricato le pile? Sì. Stiamo giocando sul tema elettrico perché abbiamo all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia due super responsabili dell'azienda Nini Virta. Sono con noi Paolo Ferraresi. Ciao Paolo! Buonasera, lieto di essere ancora qua a parlare di elettrico. E Kevin Morstabilini, il nostro pilota elettrico. Buonasera a tutti, buonasera. Sì Ricky, come gli spettatori più attenti ricorderanno, Paolo e Kevin non sono qui per la prima volta. Bensì sono stati qui negli scorsi mesi per parlare appunto di mobilità sostenibile perché Nini Virta è la prima in Italia che ha introdotto il trasporto per merci con mezzi elettrici. Vero Paolo? Sì, noi dall'inizio 2014 abbiamo in flotta dei camion 100% elettrici, questa flotta si è ingrandita e oggi siamo sempre coloro i quali hanno la possibilità di fornire un sistema di trasporto ecosostenibile alla nostra clientela. Durante il corso della trasmissione parleremo a lungo di questa tua bellissima realtà. Invece a Kevin, che è il nostro pilota elettrico, ormai ti abbiamo definito così, volevo chiederti come sta andando il lavoro in queste settimane. Allora, in queste settimane è un pochettino agitato perché siamo stati alla fiera di Padova e queste cose, quindi vai, fino a quando il lavoro va siamo molto felici. Dopo ne parleremo a lungo della fiera di Padova. Allora, ora è tempo di parlare un po' di motorsport. Vi volevo chiedere, state seguendo la Formula E? Sì, io e Kevin la seguiamo in modo particolare perché è propedeutica a quello che ci possiamo aspettare sui nostri camion da qui a venire. È tecnologia di primo impatto, è tecnologia che rappresenta il passo verso una mobilità diversa da quella dei carburanti fossili. Bisogna dire che il grosso vantaggio sarà quello di scoprire la possibilità di utilizzare pile molto più potenti, capienti dal punto di vista energetico, in modo tale da allungare la percorrenza dei camion e riuscire ad arrivare sia dove. Allora, noi, se sei d'accordo Miriana, farei partire un collegamento telefonico molto importante con Antonio Caruccio, giornalista sportivo di Italia Racing e Autosprint, il quale naturalmente dobbiamo chiedergli un po' di farci il punto sulla Formula E. Vediamo se c'è Antonio ai nostri microfoni. Ci sono, ci sono Riccardo, ciao. Ciao Antonio, ti salutano tutti qua in studio. Ciao, ciao Miriana, ciao Paolo, ciao Carin. Allora, stavamo parlando, caro Antonio, naturalmente di Formula E con i nostri ospiti della Ninivirta. Ci vuoi fare un po'... Chi meglio di loro. Esatto. Ci vuoi fare un po' il punto della situazione sul campionato? Sì, sì Riccardo. Abbiamo da pochi giorni visto la conclusione del sesto appuntamento stagionale a Punta dell'Este in Uruguay, il quinto in realtà della stagione perché Hong Kong si è disputato su doppia gara, un formulario sempre molto interessante e avvincente. Sì, Antonio, poche settimane fa invece si è registrata la prima vittoria di ABT. Sì, sì, Miriana Abt è il pilota tedesco che si è aggiudicato la prima vittoria in campionato dopo in realtà una squalifica iniziale nell'appuntamento di Hong Kong. Dunque il pilota tedesco è riuscito a tornare al successo, il primo, nella Formula E. Daniel è un vero e proprio personaggio che in qualche maniera incarna lo stile della Formula E perché oltre che essere un pilota è un youtuber ed è l'ultimo rampollo di una famiglia da corsa, proprio quella ABT che è un elaboratore di Audi e che ha supportato Audi nel progetto ufficiale della Formula E. Penso che dopo essere stato pilota di Formula 3, GP3 e GP2 ha deciso di passare in GT, con Bentley sempre parte del gruppo Audi per poi riciclarsi in qualche maniera in formula e giungendo finalmente al successo. Mentre com'è la situazione di campionato, Antonio? Beh, è facilmente il leader Vergna che ha avuto la possibilità di saltare, diciamo così, a pie pari i problemi che hanno avuto invece i suoi avversari, tra cui Roger, Quisler, De Boenic, che ci aspettavamo di essere protagonisti, ma soprattutto è mancato Lucas Di Grassi. Allora, Antonio, il campionato tra un po' arriverà a Roma, in Italia. Cosa ci vuoi dire a riguardo? Sì, il 14 aprile si correrà sul circuito di Roma, questo ritorno alla zona euro sarà sicuramente un evento molto importante per l'Italia perché sarà la prima volta in cui la Formula E marcherà ai confini italiani. C'è grandissimo interesse da parte degli sponsor e soprattutto di possibili investitori, dunque sarà un evento che tutto il mondo del motorsport attende con grande ansia e trepidazione. Assolutamente. Antonio, sei stato gentilissimo per questo tuo preciso focus sulla Formula E. Noi ti ringraziamo dallo studio di Sport Italia. A voi, buona serata. Ciao Antonio, ciao, ciao. Beh, Antonio e Paolo sempre molto precisi sulle informazioni, di un mondo che poi vi appartiene anche. Sì, in effetti le informazioni che ci può dare Antonio ci tengono comunque costantemente informati su quelli che sono gli sviluppi, anche perché lui ha una posizione privilegiata, essendo praticamente presente per tutto il campionato, riesce ad intuire quelle che possono essere le varie problematiche, soprattutto nel mondo elettrico, perché per esempio i problemi che ha avuto Rosenquist, dove praticamente era in testa alla gara per praticamente dal primo giro, alla fine si vede che non gestendo bene l'elettrico si finisce male. E Kevin lo sa, perché lui è quello che gestisce per noi tutta la fase elettrica. E ne parleremo tra poco di questo, prima un po' di pubblicità e poi ancora tanta mobilità sostenibile con l'azienda Nini Virta. A tra poco. Mecomer, azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodo. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID, per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion comportata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni, tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it Drivers Communication L'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni, realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine, scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it Rieccoci, tornati nuovamente nei nostri studi televisivi di Sport Italia. Vi abbiamo parlato di motorsport con la Formula E, che è stato poi l'assist perfetto per il blocco che ci attende adesso. Vi parleremo ancora di elettrico, ma di mobilità sostenibile con l'azienda Nini Virta. Assolutamente, Ricci. Infatti spesso il motorsport è stato il banco di prova per innovazioni che abbiamo poi ritrovato sulle autovetture stradali. Paolo, sei d'accordo? Assolutamente d'accordo, Miriana. Di fatti, noi seguiamo molto da vicino quelle che sono le nuove evoluzioni nel motorsport elettrico, soprattutto per quanto concerne le batterie, che sono un pochettino la parte nobile e debole o forte di tutto il sistema. Più andiamo avanti, più vediamo la produzione di batterie molto potenti e molto capienti, che ci potranno far fare dei tantissimi chilometri anche con i nostri camion. Ecco, quindi Paolo, pensi che in un futuro potremo vivere completamente in maniera elettrica? Magari oggi prefigurare un futuro dove avremo esclusivamente mobilità elettrica, sia per il privato che per il pubblico, è difficile da vedere. Però se noi ragioniamo nei termini 15-20 anni, è dove dobbiamo andare, perché non potremo continuare a utilizzare combustibili fossili per muoverci. Questo vuol dire che comunque l'elettrico, per tutta una serie di ragioni, perché in qualsiasi caso ci può portare veramente molto lontano, è il futuro, è quello sia per le merci che per le persone, e quello che ci concederà le possibilità di spostarci in giro per il mondo. Sì, andiamo però, Ricky, dal nostro pilota, invece, elettrico. Kevin, tu un camione elettrico già lo guidi da anni ormai, sei un percursore dei tempi in qualche maniera, giusto? Cosa ci puoi dire di questa esperienza? Diciamo che è un'esperienza unica da vivere per l'autista, ti dà sensazioni diverse da quelle che sono la guida normale, ti dà determinati stimoli, un autista sa che non guida e basta, ma sta cercando di fare qualcosa in più oltre alla guida, già ci cerchiamo di fare qualcosa per il nostro futuro. Certo. A proposito di futuro, Paolo, so che la tua azienda di Nivirta guarda sempre al futuro, come vi state muovendo? Noi ci muoviamo, vise che ci crediamo, abbiamo investito tanto in questa nuova avventura per dare la possibilità a chi vuole, a tutta la cliente, ma soprattutto al pubblico, la possibilità di avere un prodotto sul banco trasportato in maniera sostenibile. Certo che poi, girando per l'Italia, qualche volta ci portiamo in giro anche degli amici, no? Vero? Assolutamente. Eh, vero Ricci? Esatto, esatto. Tu sai cosa vuol dire, eh? Sì, a tal proposito, noi siamo stati alla fiera di Padova e io mi sono... ho fatto il viaggio da Milano verso Padova con Kevin sul camion e vi devo dire, ragazzi, che è stato fantastico. A non si sente volare veramente una mosca. Il mezzo va forte, perché adesso non possiamo dire a quanto siamo arrivati, ma... Non si può dire. Non dirlo. Ma la cosa più particolare, ragazzi, che mi sono addormentato, Kevin mi ha svegliato a Padova e mi fa Ricci, guarda che siamo arrivati. Scusa se non sono stato molto in compagnia, Kevin. Però veramente un comfort di viaggio mai visto. E invece, Kevin, allora, ci vuoi parlare un po' delle novità che c'erano questa fiera di Padova? Allora, diciamo che fondamentalmente la novità più grossa era la nostra, perché nessuno aveva mezzi come i nostri, come il nostro tipo. C'erano molte case costruttrici, tanti presentavano delle novità, però tutti presentavano soltanto quello che è l'Euro 6 e quello che è il futuro sul diesel. Diciamo, sull'elettrico noi eravamo... Siamo leader nel settore per ora. Ovvio. Ecco, Paolo... Sono sempre più forti. Esatto. Siete sempre più forti. Sempre più fulminati. La posizione rimane sempre la prima, insomma. Ecco, abbiamo visto, Paolo, che siete veramente molto sensibili anche alle fiere in questo caso, dove ci tenete a far conoscere quello che fate al grande pubblico e agli addetti ai lavori. Io, noi, io e Kevin e tutta la gente che mi supporta e mi sopporta a volte, crediamo in questo progetto non solo per noi, non solo per dare un futuro ad un'azienda che è molto importante, ma abbiamo capito, abbiamo veramente sperimentato che quello che noi facciamo dovrebbe essere di traino anche per i grandi del nostro settore per convertire la loro filosofia. Noi l'abbiamo convertita, costa, è vero, però bisogna sempre pensare che il benessere nostro, dei nostri figli, è la cosa più importante, è da mettere davanti a tutti. La questione delle fiere noi ci dobbiamo far conoscere perché solo facendoci conoscere il nostro messaggio è completo e trainante. Tra l'altro adesso che ci sono appena state le elezioni politiche, forse in Italia un po' cambierà, non entriamo in politica, però che cosa si può fare per favorire questo processo della mobilità sostenibile, a tuo avviso Paolo? A mio avviso sicuramente la politica ha un grande compito e il compito non è soltanto quello di andare a vedere in che modo fornire la mobilità sostenibile pubblica, bisognerebbe anche che si rivolgesse verso il privato incentivandolo, dandogli delle risorse, delle possibilità, perché oggi il più grosso problema è quello di trovare le colonnine di ricarica che possano servire non a passare mezza giornata attaccata al cavo, ma che in un'ora, come in altri paesi, per esempio in Olanda, in un'ora il nostro camion potrebbe ricaricare da 0 a 100, questo vuol dire fare altri 250 km. Eccolo qua Kevin all'opera mentre ricarica. Che attacca la ricarica alla fiera di Padova. In effetti, se noi facciamo 250 km più 250, 500 km, andiamo da Milano-Roma come abbiamo fatto con il nostro amico Lacchi. E infatti Kevin, volevo chiederti, dal punto di vista della guida, tu ormai sono più di 4 anni che utilizzi questi mezzi, quindi come ti confronti con questa nuova realtà, tra virgolette? Allora, diciamo che ormai sono l'unico, il primo e uno dei pochi che guida questi mezzi, quindi diciamo che ci stiamo mettendo in moto per creare una flotta di autisti nuovi, quindi cerchiamo di fare dei corsi per aiutare, per creare lo stile di guida migliore, perché chiaramente uno stile di guida aiuta anche a fare più chilometri, quindi ci vogliono delle determinate tecniche che in pochi abbiamo. Adesso bisogna modulare un po' il pedale del gas. Sì, tutto in base all'accelerazione, usare poco il freno, ma usare una guida molto previdente verso il futuro, quindi cerchiamo di non usare mai i freni, ma di lasciare rallentare il camion in modo che ricarichi le batterie e ci aiuti a fare sempre più chilometri per toccare una soglia sempre più alta. Certo. Bene, scusatemi, Kevin ha un piccolo record. È riuscito a ricaricare il 25% delle batterie solo con lo stile di guida? Pensa a te. Bene, bravo Kevin. Tutte tecniche da imparare dal nostro Kevin allora, dobbiamo informarci. Siamo in chiusura del secondo blocco, mentre io dormivo sul camion guidato da Kevin mentre facevamo Milano-Padova, c'era chi? Faceva? Roma-Padova, sempre con un camion elettrico. Tutto è andato alla perfezione, vero Paolo? Con il nostro collega amico Gian Mario Lacchi da Roma loro sono partiti il giorno prima con una sosta subito dopo Firenze hanno ricaricato il camion e sono arrivati a Padova. Con un camion praticamente gemello nostro di conseguenza abbiamo potuto dimostrare che le grandi piccole distanze non sono e non saranno un ostacolo nel momento in cui ci sia impegno. Bene, bene. Per questo blocco è tutto. tra poco Paolo si parlerà di motorsport questa volta con il motore. Mi prendete in castagno. A tra poco. Grazie. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate Il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosogninpista.it Buongiorno Buongiorno Come va? La vedo strano Posso esserle utile? Buongiorno Che dire sto impazzendo non so proprio più come fare L'aumento del costo del lavoro trovare nuovi collaboratori validi è sempre più difficile come possiamo fare? Ho sentito parlare di Xelion un'importante realtà italiana che può fare il caso nostro Per la gestione del personale hanno interessanti proposte offrono la dote lavoro Benissimo Vi contatto subito personalmente Buongiorno Parlo con Xelion Se anche tu hai un'azienda e vuoi un supporto per quanto riguarda i dipendenti contatta Xelion e potrai fluire direttamente dei contributi a fondo perduto per l'abbattimento del costo del lavoro Cosa aspetti? Vai sul sito Xelion.it oppure contattaci al numero verde 800 12 97 97 Finalmente abbiamo risolto tutti i problemi grazie a Xelion abbiamo trovato la stabilità per continuare serenamente a lavorare Xelion la soluzione ideale che molte aziende italiane stavano cercando Eccoci ritrovati amici di On Race TV dei nostri studi televisivi di Sport Italia vi abbiamo parlato di Formula E di ecosostenibilità con l'azienda Nini Virta e ora però è arrivato il momento di rituffarci nel mondo del motorsport vero Mirjana? Sì assolutamente Ricci infatti a tal proposito andrei a presentare il nostro nuovo ospite il grandissimo Stefano D'Assi titolare della Lotus Cup Italia Eccolo qui Eccolo qui Ciao Stefano Ciao Riccardo Buongiorno a tutti Ecco hai visto che presentazione è la nostra Mirjana? Eh cavolo Allora caro Stefano so che voi in PB Racing questo inverno avete lavorato duramente ti vogliamo chiedere quali sono le news 2018 per il campionato Lotus Cup che è prossimo a partire Beh allora diciamo che la prima news che poi è quella più importante è l'incremento delle vetture in griglia perché quest'anno partiremo subito alla prima gara al Mugello con 17 18 macchine e di questo siamo molto contenti ci sono un sacco di piloti nuove abbiamo fatto un grandissimo lavoro alle macchine abbiamo fatto qualche piccolo ragionamento diciamo che il più grosso è quello dell'adozione del nuovo cruscotto che abbiamo sviluppato in collaborazione con IEM e che ci permette di avere un'acquisizione dati completa sulla vettura in modo da poter poi confrontare le varie acquisizioni tra tutti i piloti noi chiaramente lasceremo aperta la visibilità ad ogni team quindi se qualcuno vorrà confrontare il proprio pilota ad un altro potrà chiedercelo e si potrà fare questo è sicuramente una bella cosa assolutamente Ricchi Paolo invece volevo chiederti voi siete i campioni in carica con Franco Nespoli siete carichi per la stagione? no più che carichi siamo carichissimi nel senso che anche quest'anno abbiamo un grande impegno di doverci possibilmente riconfermare campioni io farò la mia parte nel senso che col team Cipriani diciamo che non sono proprio la punta di diamante ma diciamo sono la puntina che cerca di portare un po' di acqua al mulino certo che l'ambiente grazie a Stefano grazie a Federico grazie a Franco Nespoli al mio socio e co-equipie Fabio Rezzonico è sempre molto appagante ci troviamo bene e anche quest'anno c'è che la riproviamo esatto ecco Stefano chi saranno secondo te i favoriti per questo 2018? sicuramente Paolo Ferresi è vero perché in una maniera o nell'altra io dovrò vincere qualcosa lui è la colonna portante della punta di diamante diciamo sicuramente Franco Nespoli sarà di nuovo della partita di chi si gioca la stagione poi ce ne sono alcuni nuovi come Liana che viene dalla Seat e lui è un ragazzo che già nella Seat l'anno scorso è andato molto forte e secondo me con Franco faranno delle belle battaglie Stefano Pasotti ancora in forse per affrontare la stagione perché ha dei grossi impegni di lavoro quindi non sappiamo comunque se lui ci fosse sicuramente anche lui sarebbe della partita poi c'è il nuovo team è entrato che è D&G Motorsport che schiererà due piloti uno è Francesco Guerra che torna nella Lotus Cup infatti e l'altro è Matteo De Florian che già nei test ha dimostrato di andare molto forte quindi diciamo che loro sicuramente saranno la partita poi c'è un giovanissimo che è veramente veramente giovane che tra l'altro sta facendo adesso in questi giorni il test di abilitazione per correre con la Lotus perché ha 16 anni ed è Michael Cordini che anche lui lui si è dimostrato veramente veloce beh sicuramente quest'anno bisogna tenere giù il piede per stare davanti eh sì e infatti Stefano io volevo chiederti come sarà articolato il campionato Lotus Cup 2018 allora sono 6 e 20 adesso dirteli tutti con l'ordine preciso è abbastanza difficile dovrei leggere però no diciamo che allora la prima gara sarà l'8 di aprile al Mugello adesso faremo un test collettivo al Mugello poi la seconda gara è a Franciacorta Vallelunga Monza Imola e Misano il campionato si chiuderà a Misano sicuramente i circuiti più belli a livello nazionale li avete tutti Paolo tu metterai casco e tuta quest'anno? assolutamente sì come fa lui a partire se non ci sono io esatto non è possibile per forza farai tutte le gare? no anche quest'anno mi limiterò il discorso siccome il mio livello è troppo alto a volte esatto mi limiterò alle tre importanti Mugello che mi mette sempre molta ansia e molta paura perché fate voi le arrabbiate 1, 2, 3, 4 quante sono le arrabbiate? Monza sicuramente Monza sicura perché a Monza è cinema è cinema e l'ultima Imola perché Imola è un circuito che solo non esserci fa male bisogna essere bisogna provarla ecco nelle date dove non c'è Paolo Ferraresi sicuramente lo troverete all'isola d'Elba garantito pensavo all'isola dei famosi no no senti Stefano allora stiamo partendo col campionato pronostici obiettivi di questa stagione come hai detto tanti tanti numeri beh diciamo che sì appunto noi c'eravamo prefissati di riuscire a partire con una griglia da 15 15-16 macchine quest'anno e la supereremo bene durante la stagione entreranno altri piloti che per impegni personali non possono partecipare alle prime gare e diciamo che ecco ci sono due team nuovi quindi chiaramente entrano altre strutture e per noi comunque aumenterà chiaramente il lavoro perché come sai i nostri tecnici seguono tutti ognuno in maniera dettagliata tra l'altro i ragazzi della PB Racing sono molto molto bravi www.lotuscup.it per rimanere incollati e sintonizzati sulle frequenze appunto Lotus Cup grazie mille per questa puntata è stata veramente bellissima salutiamo Paolo Ferraresi buonasera a tutti ci rivediamo la prossima volta Stefano Daste ci vediamo in pista ciao a tutti e il nostro Kevin Morstabilini grazie mille Miriana è tutto anche per questa puntata è tutto Ricchi ti saluto grazie per averci seguito a settimana prossima ciao questo programma è stato offerto da giornale allora Grazie a tutti.